WAHEI KUJ! Ben ritornati da vostro Nandroni e in questo nuovo episodio di yokai watch 3 Finalmente oggi si va a fare la missione di immagino Però per farlo devo essere Luna e non Nathan Anche se penso che dovrei andareci di notte O meglio non è che io debba andarci di notte però sarebbe meglio Perché è possibile appunto iniziare quella missione solo di notte Quindi divento velocemente Luna E poi andremo all'agenzia investigazioni Conan per accettare la missione Eccoci qui Parliamo con Blantapiro Avrei anche la missione di Korost da fare ma la facciamo in un secondo momento Eccolo qua statichello Una richiesta d'aiuto per un colloquio di lavoro Andiamo all'ultimo piano del centro affari Val d'Oro Ci da busto Givagnan Va bene Vuoi che ti accompagniamo al colloquio? Che diavino è un colloquio? È una specie di test che devi fare prima di poter lavorare da qualche parte Ti saluto incontri delle persone della compagna che ti fanno delle domande Non ho molto felice a me stesso per questo mi nervosisce andare da solo Non sembrerò più il tipo che si sa vendere Sì lo so Tranqui Lascia fare a noi In qualche modo ti daremo una mano Grazie Allora sarà più sereno Allora ci vediamo al centro affari Val d'Oro di notte? Ci travi lì Infatti come ho appunto detto bisogna andarci di notte E quindi andiamo Dobbiamo andare a casa di Luna Casa Celesti Dove sei? Uh attenzione Ah è vero Dovevo farla questo prima o poi Devo tornare padre di Luna Sapevo che quando sarei andato a casa di Luna sarebbe tornato Ma non l'ho mai fatta Sono tornato Ma è Oh sei tornato in anticipo stavolta Papà sei tornato Uè guardalo che tipo Avevo troppa nostalgia di casa Papà Eh volto tornare così all'improvviso Ma che diamine C'è stan cravatta con lui Voglio andare a casa Eh una cravatta stanca Ah dottor Nocton Mamma mia che paura Ehi dottore A quanto pare anche questa ragazzina mancava il fuo papà È il minimo che potessi fare Ora torniamo a casa Gugliel Ma che c'entrava quella Luna Tuo padre è qui finalmente Quindi Cioè È a po Apo Mi sono allenato Ma quindi rimane qui Rimango qui per un po Dove andiamo nel fine settimana Ah Danny mi ha detto tutto Che stai diventando una ragazza coraggiosa Sono fiera di te Luna Cosa hai fatto? Che dici di una bella cena speciale eh? Vabbè è qui che bello Giochiamo a palla Stradona vuoi giocare? No non voglio giocare a palla Voglio solo andare a dormire Dormi fino a Imposta la sveglia Perché se no ci tocca perdere tempo Qui va bene Vabbè andava bene anche alle 9 Ma alle 10 proprio Andiamo sul tranquillo A questo punto andiamo al centro Sportivo di Val d'Oro Che mi sembra sia il punto più vicino Perché sotto sono gli uffici Quindi sì Facciamo prima così Ok qui non c'è più il punto Yokai che mi faceva Comparire i piani Ma dobbiamo andare Qui Ecco statichello Oh detective Siamo al tuo servizio Forza andiamo a questo colloquio A proposito Il colloquio si svolge al tredicesimo piano Ma al momento sembra che ci voglia Un permesso speciale per l'ascensore Cosa? Quindi ecco Però non c'è male di arrivare lì Sciocchezza Ci deve essere un'altra via Esploriamo il piano terra Va bene Per lustro il piano terra Ecco proprio Non si nota Andiamo un po' a quiz cartello Eccolo qui Cioè davanti ce l'avevo Proprio quella porta Non è sospetta per nulla Quiz cartello Non è che ci vorrà mai A quiz cartello Uno yokai che abbiamo visto Nell'episodio di ieri Signor sabbio Forza Mediaglia yokai attiva È in arrivo Generoso Salve come va Chiunque abbia fissato un colloquio Venga a parlarmi Ciao Buonasera Ehm sono qui per un colloquio Buonasera Il colloquio si svolge A delicissimo piano Ma al momento L'ascensore è inaccessibile In questo caso Potete usare le scale D'emergenza Ui Oh grazie Si figuri Buona fortuna per il colloquio A questo punto Potremmo anche Mandare via sabbio Perché avevo Intenzione di evolverlo Difonderlo Non evolverlo Difonderlo Con appunto Un altro yokai Per dare vita A una specie Del tutto nuova Quindi Sotto non c'è nulla Ok Prendiamo le scale Questo effetto delle scale Che compare E svanisce È particolare Ah Quindi Sopra Non c'è nulla Va bene Ah bisogna andare di là Ma se invece volessi Controllare Che ne so Qualche Scrimi Occhi da gatto Occhi di gatto No non metto nessuna musichetta Se no Mi copyright Proprio Aiosa Il copyright Fiocca Qui c'è qualcos'altro Sì Questi gialli Non ci compaiono mai Però hanno oggetti Che in teoria Dovrebbero essere Importanti Ma forse Non lo sono Per tutti Ah qui gli ascensori Ah Va bene Ah ma questa porta È nuova Cioè Questa strada Solo per far Ma potevamo Accedere da sotto Attenzione Qui c'è uno yokai Mi segna uno yokai Qui nel radar Ok 13 PA Ma Ah bisogna entrare Non me ne ero accorto Perché non sa la conferenza Illuminata Oh mio dio Che paura Ma ti pozza Chiappano Accidenti Ah ma qui gli ascensori Funzionano però Si vabbè Che frenata Che ha fatto Luna Si era impiantata Nel Nel Si era impiantata Qua dentro Mamma mia Ehi tu che vuoi Ah tu sei debole Allora Non hai paura di me Cioè è paura Non Io non devo avere paura Ma Ok ecco qua Un altro oggetto Ovviamente c'era Non poteva essere Altrimenti Però medicina potente Ragazzi Che seccatura Medicina potente Che me ne faccio La pianta Qualcosa la pianta No niente E se provasse a scendere Niente Tutto bloccato Cioè tutto quanto Stati riterra Per farmi fare Qualche strada in più Per vedere qualcuno E qui Ah Continuiamo ad andare Qui Pensavo dovevo Accedere sotto Da qui dopo Dobbiamo scendere Ci sono le scale A parte Non posso passare Qui sotto No A quanto pare Lo spazio Non è sufficiente Oh salve Oh abbiamo clienti Scusaci tanto Siamo sempre Molto di fretta No Tutti gli impiegati Qui credono Nel lavoro Di immagino Per questo Mettono cuore Anima In tutto quello Che fanno Sì Però sembra più Una rimessa Sto ufficio Sono felice Quando immagino Ricevere Lettere dai fan E' come se L'avessi ricevuto Io No Porta a termine Senti felici E' come se 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 Ma in realtà La guida La guida per La guida per Fancy La guida per Fancy La sto facendo Me ne mancano Davvero pochi Ho quasi finito Ok Quindi dobbiamo arrivare Lì Ma quindi Questo qua Non ferma Nulla Ok Devo parlare Con lui Oppure andrò Un attimo Qui Che devo Recuperare Questo oggetto Scafo Fendi onde Oh Questo è interessante Da mettere Sulla zattera Allora Ci sono un po' Di poste Ancora Che vorrei Scoprire Con la zattera Ma adesso Ragazzi Andiamo ad affrontare Immagino Non ho messo Yokai A livello Tanto alto Perché alla fine Anche se sto Allenando le divinità Tipo Emma antico Ce l'ho al 60 Ma è già più forte Di Omblu Che sta al 99 Quindi Eh Mi scusi Deve essere qui Per il colloquio Benvenuto Si accomodi pure Nell'ufficio Del direttore Va bene E voi Chi sareste Siamo qui Come supporto morale Capisco Allora Accomolatevi anche voi Nell'ufficio Del direttore I colloqui Inizieranno Appena entrerà Nell'ufficio Un attimo Possiamo entrare Anche noi Well Allora entriamo E Nino pronto Stavolta Ah Immagino Eccoci qua Ok Calmati Ok Che non si è riuscito A far uscire Inazuma Eleven Ares Quest'anno Però Cioè l'anno scorso Però stai calmo Ok Non ti arrabbiare Io sono Imagino Perché Gino Non è Gino In realtà Imagino Perché Ino Da Ino Akiro Ino Italiani Chiamate i giapponesi Quando dovete fare Ma io mi chiedo Quando mandano La cassetta Delle audizioni A parte che c'entra Nintendo In Italia Quindi La vera Non ha nulla a che vedere Quindi colpa Della Nintendo Io lo chiamo Imagino E sono Imagino Direttore di questa Magnifica compagnia Che il colloquio Abbia inizio Dunque Perché Non mi stai dicendo Mi chi sei Io sono Statichello Piacere di conoscerla Sai quando la gente Senta quei pizzicore Toccando le maniglie Delle porte Quello Sono io I pizzicore I pizzicore Quella scossa Che mi dà Quando prendo il carrello Della spesa Ragazzi Quando vado a fare spesa Due volte su cinque Quando tocco il carrello Mi dà la scossa Ma dentro al negozio Non fuori Perché fuori È quasi impossibile Dentro Oppure quando prendo qualcosa Dallo scaffale La scossa Sempre Ti prenderei a sbrancarti Sui denti Proprio Per quanto Con l'agenzia investigativa Siamo sempre pronti All'azione Un'agenzia investigativa? Quindi sei un detective Molto interessante Che diamine stai facendo La smetti di fare Bella impressione Ben momento di gloria A chi voglia il lavoro Ma tu hai già un lavoro Che non è un lavoro Retribuito Tipo detective Però insomma Lavorando per immagini Non credo che tu venga pagata In soldi Che puoi spendere Nella vita Normale Passando oltre Parlami delle abilità Che possiedi Dunque Io posso generare Elettricità Elettricità? Quanto è potente Questa elettricità? Ah Sì Ecco Abbastanza per un pizzicotto Un pizzicotto Dunque Le abilità che possiedo Faccio sempre Arrabbiare Rosapion Saluto su Sailor Bell E un'incredibile Capacità Deduttiva Prima Naturalmente In quanto detective Possiedo abilità Deduttive Senza pari Nessun caso È risolvibile Se ha qualche problema Ci faccia sapere Signor Immagino Beh Se salta fuori qualcosa Saprò chi chiamare Non è il mio numero Perché Che diavolo stai discutendo Di affari Durante il colloquio Di un altro E comunque Sei troppo esuberante Sei incredibile Ho l'impressione Che andremo Molto d'accordo Wow Luna Mi ha rubato La scena Ora Visto che ci è rimasto Poco tempo Decidiamo Con una battaglia Una battaglia Con il selezionatore Potrà essere Non convenzionale Ma perché no Battaglia Oh Una battaglia Con il potente Immagino Tanto non cambia nulla Credo Usa tutta la tua forza Che emozione A tutta forza Vedo che sei molto motivata Ehi Luna Mi spieghi perché Diammene tutto questo entusiasmo Ora Tutti quelli che sono pronti A combattere Facciano un passo avanti No scappo Quanti trofei Nintendo Wii E Playstation E beh certo Grazie al cavolo Che c'è la Playstation Sennò Alcuni giochi Da level 5 Come te ricordi Sul Nintendo Che non ci sono Sei pronta la battaglia Luna Penso che prima Andrò a calmarmi Da qualche parte Io invece Credo di essere Purtroppo pronto Allora Te la senti Di affrontare Questa prova Ma certo Luna Celeste Il rapporto Eccellente Ora fatemi vedere Che sapete fare Sì Era scritto Che sapere fare Ci può quasi stare Tra T e R Ma va bene Questa è di Psicospettri Se non sbaglio Ok partiamo Con la pistola Evoca yokai Ok Questa è l'aspettato Ma va bene Sono proprio Da per tutto Sono gli yokai Ho fatto uno sbaglio Ho messo la dadurba E davanti Mettendo la dadurba Davanti Mi sono fregato Da solo Devo metterlo dietro A parte che Tanto sta fermo Immagino Quindi non serve Oh Poco 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 Qualcosa Mi dice Che non sarà Molto facile Questa lotta Jibanyan Oddio Se lo prendevo Facevo un parco di danni Cosa Fermati Fermati Subito Ehi 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 A che ricarico E baffan bagno Dai però ragazzi Su No 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 Veloce 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 Bravo Se mi prende è finita ragazzi Mi fa male Tanto male No 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 Lino Lino Perché Era mancato Si mi sono portato Immagino risvegliato Che ha un energy max Molto potente Cioè Lui ha molto spirit E fa un energy max Potente Quindi Raggio gratitudine Andiamo un po' Ehm Lui No Più difesa Cioè Si ok Ma è imballandito Ok No Come ha preso Ok So cosa fare Così magari elimino anche i jibanyan Per fare una volta buona Ragazzi Veloce 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 Cavoli Però quanto ci vuole Mancato E vabbè Allora Eccolo qua Non serviva Ma alla fine Uguale A sto punto Mettevo Un'altra Da bene uguale Ok Calma Calma Ora Calma Fermi Oggetti Non prende nessuno Perché sono stato Bravo Stavolta Moltissimi Moltissimi Ma ci Si immagino Tu è mai il grande Che io lo purifico Oh L'incanto Di primo livello Si Si No Arrivo Permesso Salve Benvenuto Lei è Nuovo Apprendista Apprendista Non li Retribuiamo Perché Siamo Bastardi Oh Però 51 danni Sprontatezza Molare E vabbè Su 5 Volpi 4 Li Manca Ah Si Ha ricaricato La Dalurbe Grande Ok Abbastanza PS Non mi Servono Molti PS Eccolo Qua Vado Di lui O su Immagino Perché Lui Mi darebbe Molto Fastidio Credo Dai Ragazzi Ahia Immagino Risvegliato Come Resistito Subito 41 Ragazzi Un po' Di più Andava bene Perfetto Tu carica Lì Bravo Ah no Questo Non è Eccolo Qua Un po' No Mi serve Molti Moltissimi No Moltissimi E troppo Molti Eccolo Qua Madonna Fatti venire Una bella Caria i denti Raga Può andare Tranquillo E insomma Non va Molto Bene Non è Che va Molto Bene Ragazzi Vabbè Però Mi fai Cambiare Quando Serve Allora Moltissimi A te Tu sei Carico No 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 Ragazzi Mi serve No 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 Veloce 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 Forse ce la faccio Forse ce la faccio No Quindi che devo fare Quindi come funziona Quello Come funziona Quello Ho capito Ho capito Ho capito Ho sbagliato io Ho capito Come Ho capito Cosa dovevo fare Eh vabbè Ma ce la faccio Resistere un'altra volta Tutto quando Fì il tempo Fino a Che da quando Li fai il pisolino Non penso Che ce la faccia Resistere Va becca a lui Va Porca miseria Ragazzi E chi ci resiste Qua Ora è giusto No Sì Perfetto ragazzi Posso andare Con l'energia Grazie E' come in blaster Certo in blaster Certo in blaster era più difficile Perché dovevi farti seguire Se poi non ti seguivano Non potevi farlo Era una seccatura Ragazzi in blaster Qua è molto più semplice Anche se a quanto pare Scompare Quindi Insomma Fermi Aia Qua E qua Uh Per me Prego Venghi Venghi Lei mi fa molto piacere Vederla Meglio di questo Non potevo chiedere Immagino risvegliato Dov'è Dov'è Qua Ok Ora attacca Per favore Cavoli però Fai un po' di danno Fatto Dai va bene Va molto bene la lotta Non mi posso lamentare Per davvero Non posso lamentarmi No Se però venisse alto Sarebbe molto meglio Però vabbè dai Ok Perfetto No non provare In diagonale Mi devo preoccupare Pensate A sto punto Lo finiamo ragazzi Se lo prendessi Ah è scomparso Aspetta allora Fammi vedere un attimo Venghino signori Venghino Che poi c'è le vagini Del libro E le melodie Del suono Venite Caparezza Nel caso Vi stessi chiedendo Da quale citazione Allora Da l'urbe Come sta messo Con le nerge max È praticamente pronto È praticamente pronto Se solo Di esserlo ok Venghi 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 anche lei Vabbè Venghi E così Non è servito L'energe max Anche perché Non me lo dava Però ok Lo dà bene Sono soddisfatto Di questa lotta Il mio team Si è rivelato All'altezza Ma devo ancora Allenarti Per la sfida finale 12.335 I punti salgono Salgono i punti 140 di euro Quindi Siamo Sì Beh Tu È stato incredibile Il lavoro è tuo Eh No no È frenti su tutto Il candidato è statichello Non io Ah Sul serio Che posso fare Ai 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 Mi aspettavo più determinazione Da grande immagino Eh Uno Yuki è così brillante Non lo trova tutti i giorni È raro Troverà uno Yuki è così umile E con tanto potenziale Sono d'accordo Allora è indeciso Eh Proprio così statichello Il lavoro è tuo Davvero? Grazie di cuore Non la diruderò Uh Si è giusto tutto per il meglio Un altro caso Closid Sì a me Closid è un po' Troppo Maccheronico però Ci siamo capiti Grazie davvero per oggi Immagino è sempre stato il mio modello E ora potrò lavorare con lui Ma figurati Era il minimo che potessimo fare Per un momento Credo che Luna avrebbe avuto il lavoro Mi avete davvero aiutato Mi impegnerò al massimo ogni giorno Luna celesti Un giorno mi piacerebbe sfidarla di nuovo La prossima volta ce la metterò tutta Che diventi immagino risvegliato? Ah Beh questa scena Grande Non è normale Perché dice Poteva dirmelo prima Che quindi diventi veramente immagino risvegliato? Ma chissà Anche perché no però Gioco da sala? Fusione? Anche perché Ce l'abbiamo Lo troviamo all'Hall Blaster's T Quindi non sarebbe normale Beh ripeto Questo video termina qui E io come sempre vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo ovviamente in descrizione Che c'è il link per Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre al prossimo video Bye bye Ciao